nome giochino cognome criaco cosa fai nella vita tento di scrivere che cos'è la scrittura non lo so io provengo da da una famiglia semianalfabeta ho imparato a fare sti segni e li faccio poi non so se siano scrittura o meno come si fa a diventare uno scrittore di successo ma o hai dei buoni amici oppure ti metti a sudare a studiare chi sono le anime nere le le anime nere sono i ragazzi degli anni 70 80 nati in aspromonte che sono partiti per conquistare il mondo ci sono riusciti ma hanno fatto una brutta fine quante anime nere ci sono oggi in calabria poche che cos'è l'andrangheta guarda l'andrangheta è un inganno come tante altre cose che provengono dallo stato cosa pensi della legalizzazione delle droghe leggera io sono assolutamente favorevole sempre stato favorevole cosa pensi della legalizzazione della prostituzione mi dispiace tantissimo lo sfruttamento dell'uomo sulla donna o dell'uomo sull'uomo qualsiasi tipo di sfruttamento è negativo a me non piace in via di principio però certe cose è meglio legalizzarle che vietarle magari il problema si risolve cosa pensi della legalizzazione dell'andrangheta può darsi che succederà la stessa cosa ma non lo so come l'impressione che clandestinamente sia sempre stata legale cosa preferisci calabriola o il quotidiano la riviera il buon cibo o upilu vista la stazia io oramai a certe cose ci passo sopra e mi piace mangiare ti piace fare sesso mi piace mangiare qual è la tua posizione preferita e impugno la forchetta con la destra cosa pensi di un stilo guarda di un stilo bisognerebbe scriverci un'enciclopedia per parlare di tutto a a luce ombre a me piace la sua parte pastorale ma nel senso genetico del termine era anche lui un figlio di pastori e cosa pensi di natale bianchi e mi piace la sua eresia preferisci lo slogan meno tasse per tutti o lo slogan chiupilo per tutti chiupilo per tutti berlusconi bersani o vendola macno meglio rosario con d'arcuri o pasquino gruppi voglio bene al rosario però pasquino è il numero uno cosa stai scrivendo in questo momento il quinto di 59 romanzi possiamo poi anticiparci il titolo sì tutti hanno un titolo questo è cerchio di fate cosa pensi di peppe di peppe scopelliti peppe lui quello che che pensavo di agazio quello che pensavo di chi era valloti quello che pensavo di tutti i presidenti della calabria di destra o di sinistra per finire vuoi fare un saluto ai tre spettatori di caos calabro si compratevi i miei libri tanto li scrivo per voi